Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sentirete casino perché sto in chiamata con il figlio Giosuè e Samuel. Ecco infatti, bella partita, basta che non perdiamo altrimenti siete scarsi. Samuel, qua c'è la fama mondiale, si vabbè, c'è la fama mondiale. Ambetto Angela! Ambetto Angela! Porco Dio! Toc tu ammata! Hai la mince non è la carta alla volta, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno. Aspetta! Sì! Non è carica, basta! Tira, 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 tira Sì! Come!! A stai mi ha adattato la prima versione tutta bross house. NOOO! Sì vabbè, che cazzo vu ti fare io con sto steccare in merda ti fippo la 버 bitcoin? caso per il culo ha fatto una gombo ha fatto no 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 ma no come portiere dell'Atalanta è un portiere per la classe portiere a classe no no si vabbè no no sai che ti dico vai 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 vai